È il giorno del dolore a Qualiano. Tante le persone accorse alla camera ardente di Antonio Santo Paolo e Carmen Tammaro, i coniugi morti nella tragedia del torrente Raganello in Calabria. Presso la parrocchia Maria Santissima Immacolata, amici, parenti a presidiare le bare, posta una accanto all'altra. Tante persone giunte anche dai paesi limitrofi. Per i familiari e i conoscenti, la giornata del dolore, ma anche tanti ricordi. Il ricordo di due brave persone e una famiglia felice che amava la vita. Come era Antonio? Una persona molto di qualità, con tutte le qualità che può tenere una famiglia e anche loro. La sua signora è pure, è una professoressa con tante qualità. Il comune di Qualiano è in là di me per questo. Indubbiamente è una città sotto sciocco perché sono cose così inaspettate, cose che non dovrebbero succedere. Purtroppo, come si dice, la vita è fatta anche di queste cose brutte. È una tragedia, sinceramente, soprattutto per le piccole che sono rimaste scioccate. Speriamo che veramente il Signore dia la forza a queste due famiglie. Perché non ci sono parole, è assurdo, è assurdo vedere quelle due bare. Non si può morire così? No, è assurdo. Scansi le malattie da quelle nostre parti e poi si muore così. Due persone, tutte e due, la famiglia, sia di lei una grande tragedia. Oggi alle 16, sempre presso la parrocchia Maria Santissima Immacolata, l'ultimo saluto per Antonio e Carmen.